Buongiorno a tutti, al seminario di questa sera parleremo del brettanominices, che lo troviamo in vari luoghi della filiera produttiva del vino, dalla vigna alla bottiglia, perché effettivamente sono ambienti dove il brettanominices si può trovare tranquillamente, poi vedremo le specificità che avrà questo microrganismo nei vari punti della filiera produttiva. Allora, Bretanominices, che in enologia è sempre tenuto un levito molto dannoso, effettivamente però è stato uno dei primi microrganismi, anzi il primo microrganismo oggetto di brevetto, perché? Perché in alcune birre inglesi veniva utilizzato proprio per produrne di tipi particolari, perché? Perché in quelle condizioni poteva produrre dei sapori, dei profumi particolari e peculiari di queste birre. Come vediamo, le cellule di brettanominices, come si vedono nel microscopio, sono cellule molto eserogenee, alcune sono rotonde, anche abbastanza grosse, altre sono allungate, strette, come dimensioni, alcune sono piccole, queste sono invece molto grosse come cellule, vedete anche allungate o circolari. Poi ci sono alcune forme che sono un po' più caratteristiche, tipo come questa ogiva, cioè con una parte piatta ed una parte invece proprio più stondata, in parte come questa che possono essere delle forme abbastanza tipiche di brettanominices, ma indubbiamente ci vuole un occhio esperto per capire, guardando ad esempio un vino con dei microrganismi all'olio al suo interno, per capire se si tratta di brettanominices oppure no, è una cosa abbastanza difficile farla attraverso il microscopio. Cos'è il, da un punto di vista di metabolismo? Sono alcuni cenni. È anaerobio facoltativo, cioè può vivere anche in condizioni di assenza di ossigeno, è in presenza di alte concentrazioni di zuccheri, un po' come saccharomyces cerevisi, fermenta anche se c'è ossigeno, fermenta gli zuccheri, come fa saccharomyces, ma anche alcuni, come di metabolito anche un po' più particolare, cioè la fermentazione del glucosio e etanolo è bloccata in condizioni anaerobie, per cui senza ossigeno francamente brettanominices ha un metabolismo molto più lento e può produrre in certe condizioni anche acido acetico, elevata produzione di acido acetico in certe condizioni aerobie. L'ossigeno è il nutriente più importante per brettanominices, perché davvero senza ossigeno le cellule sono molto in crisi. Ecco perché ad esempio noi lo troviamo durante la fermentazione, ma è molto raro trovarlo nel pieno della fermentazione alcolica laddove lascio due prodotti da lieviti, come dire, tiene fuori l'ossigeno, è molto più facile trovarlo nelle code fermentative, cioè laddove abbiamo la fermentazione quasi assente o del tutto assente, cioè quando abbiamo quasi un blocco fermentativo, ecco in quella fase dove posso avere ancora nutrienti come i zuccheri residui, non ho più lieviti che fermentano attivamente ed ecco che in questo caso l'assenza di CO2 può far sì che dell'ossigeno penetri all'interno del vino e questo può provocare un aumento della popolazione di brettanominices proprio in quel periodo, in questa situazione molto particolare di code fermentative molto lunghe. È resistente agli stress osmotici, per cui sta bene anche in situazioni con molto alcol o con molti zuccheri iniziali, resiste a pH bassi, ha basse esigenze nutrizionali, non a casa il suo ambiente, la sua nicchia ecologica per eccellenza è il vino, che è un elemento come dire, con poche sostanze nutritive, le maggiori ne ha consumati lieviti durante la fermentazione alcolica e può utilizzare molte sostanze, diciamo molte sostanze carboniose come il suo metabolismo, cioè un lievito che si sa ben adattare agli ambienti difficili. Vediamo in questo caso, tanto per avere un'idea di quale è il suo metabolismo, vediamo come si comporta in un mosto sintetico in cui ci è stato messo 100 grammi di burcosio, 100 di fruttosio, quasi a mimare un mosto vero, azoto, aminoacidi e l'acido cumarico che è il proporsore per formare il fenolo. Cosa succede? Vediamo come questo, vediamo dal grafico, come questo lievito incomincia a crescere abbastanza attivamente, già nelle prime ore. Vi ricordo questo non è un mosto, questo qui è un mosto sintetico. E come con un ritardo davvero di 25 ore, in pratica con una giornata di ritardo rispetto all'inizio della crescita, si incominciano a produrre anche il vinilfenolo inizialmente. Vedremo perché, perché il vinilfenolo è la prima molecola che viene prodotta. Poi non appena, come dire, il metabolismo è più attivo, si produce anche l'etilfenolo e il vinilfenolo inizialmente prodotto, vedete questo qui, viene riassorbito e tutto viene poi rilasciato come etilfenolo. Il vinilfenolo viene riassorbito dalle cellule e viene poi riemesso all'esterno come etilfenolo. Vedete come molto più in là nel, diciamo, nel metabolismo, diciamo, in un tempo successivo, si ha anche la produzione da parte dei zuccheri, in cose fruttose presenti, di acido acetico. Quando effettivamente un brettanomyces cresce anche in coda alla fermentazione, non soltanto ci ne accorgiamo per questi profumi o questi, diciamo, odori negativi, ma forse come primo segnale potrebbe anche essere quello di un incremento di acida volatile. Ovviamente in questa fase anche i batteri lattici fanno la stessa cosa, cioè un incremento di acida volatile, per cui diciamo, l'aumento di acido acetico non è certo sintomo o sinonimo del solo brettanomyces. Ecco, effettivamente la crescita di brettanomyces è molto più caratterizzata dalla produzione di etilfenolo. Vediamo come questo lievite può usare varie fonti di carbonio, ma il glucosio è quella che gli dà un maggior tasso di crescita, cioè praticamente le zuccheri, le residui, anche un pochino le zuccheri, le residui nel vino in conservazione, ecco, può dare un forte stimolo affinché questo lievite possa crescere tranquillamente. Non solo, ma anche quando cresce così bene, così attivamente con il glucosio, è massimo il tasso di conversione in etilfenolo, cioè dal substrato che sarebbe l'acido cumarico, ecco, praticamente tutto viene trasformato in etilfenolo, perché la cellula si trova evidentemente in una condizione ottimale di crescita. Ecco perché il, diciamo, come dire, il primo problema che possiamo avere durante la conservazione dei vini è proprio quando questi vini hanno, come dire, anche pochi grammi litro, un grammo litro, due grammi litri di zuccheri residui, ecco, rende questo vino più suscettibile alla crescita di brettanomyces. Cosa fa? Vediamo come brettanomyces fa davvero tantissime cose, non soltanto i fenolivolatili, come detto acido acetico, l'idrolese degli antociani, ma questo, come dire, è un problema molto secondario, un pochino di ammine biogene, ma poi vedremo che effettivamente non è il suo prodotto principale, un po' di esteri, alcuni sono, ad esempio, alcuni alcoli, tipo il 2-finilitanolo e quello, diciamo, l'aroma di rosa, ecco, perché alcuni di questi prodotti, come anche il beto da maccioni, sono prodotti probabilmente, diciamo, positivi ed è per questo che viene anche utilizzato per fare alcune birre importanti, perché appunto non produce soltanto prodotti che hanno odori sgradevoli, ma fa anche alcuni prodotti che possano avere degli odori interessanti. Con gli acidi può produrre anche alcuni acidi grassi, come l'acido isofalerico, l'isobutirrico, che hanno un odore quasi sempre in concentrazioni elevate di rancido, certamente non positivo. È anche responsabile, insieme a batteri lattici, no, ve lo ricordo, della formazione del cosiddetto odore di topo, di cui si conosce ancora poco, insomma, c'è tanto, tanto da studiare sotto questo punto di vista. Allora, questa è la trasformazione, i vari step della trasformazione dall'acido di origine, l'acido cinnamico a, diciamo, l'etilfenolo. Ecco che vediamo che questa prima parte, fino al vinilfenolo, sono molti i microorganismi che possono utilizzarlo, da batteri lattici, alcune picche, lo stesso saccharonicis ribise o altri leviti non saccharonicis che possiamo trovare, diciamo, durante la fermentazione alcolica. Ma l'ultima tappa, cioè da vinilfenolo ad il fenolo, sembrerebbe che soltanto il bretanonicis abbia questo enzima e abbia dunque la capacità di formare l'etilfenolo. Certamente la presenza di fenolo è molto più importante per definire la presenza di bretanonicis, che non di vinilfenoli, perché effettivamente mi dà l'idea, diciamo, nella nostra esperienza, i batteri lattici, ad esempio, forse più i pediococchi, ad esempio, possono produrre anche vinilfenoli. Questa è una sensazione di vini molto contaminati da pediococchi. Troviamo dei vinilfenoli in presenza, talvolta, anche importante. Però, però, è un lavoro abbastanza nuovo, del 2018, fino al 2018, in cui cosa notano questo gruppo di ricerca? Lavoro molto interessante. È stato visto che la presenza di questo enzima, questo enzima è quello necessario per la trasformazione da vinilfenolo ad etilfenolo, è presente anche in alcuni batteri lattici, specialmente in moltissimi batteri lattici tipo l'econostopplantarum, l'altobacillus plantarum, scusatevi. L'altobacillus plantarum lo possiamo ritrovare anche in mente enologico. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, anche se per queste capacità, questa è l'espressione di questo gene, è stata vista soltanto in vitro e non ancora in vino, ma deve stare molto attenti affinché, appunto, forse, forse, brettarumicis potrebbe non essere l'unico o, diciamo, responsabile della produzione dei vinilfenoli. C'è da dire che, diciamo, questo ruolo di batteri lattici in altre bevande, come ad esempio nel sidro, potrebbero avere un ruolo effettivamente più attivo e la differenza tra il sidro e il vino poi non è così ampia. Dunque, questo articolo apre, come dire, un nuovo fronte proprio per la produzione degli etilfenoli in cui anche i batteri lattici, in questo caso la Tobacilli, sembra che effettivamente loro dicono che Enococcus Eni, che è il batterio lattico più frequente nel vino, il responsabile della malolattica in generale, ecco, sembrerebbe che Enococcus Eni non avesse questo enzima e dunque non fosse in alcun modo responsabile, sembrerebbe. Però ecco, questo articolo lascia trasparire che ci dovrebbero essere anche delle novità sul ruolo dei batteri lattici anche, da questo punto di vista, della produzione degli etilfenoli che fino adesso venivano considerati prodotti solo ed esplosivamente da brettanumice. Vediamo un pochino, qui vediamo le concentrazioni, la soglia di percezione e i descrittori che si danno a questi. Però un interessante articolo di, diciamo, pochi anni fa, ha messo in confronto con dei vini, diciamo, tratte diversi vini dentro di etilfenoli e li ha fatti assaggiare a 105 consumatori, cioè un panel test molto ampio. E cosa hanno visto? Hanno visto che, indubbiamente, ma questa è una cosa abbastanza intuitiva, la presenza, non so, di aromi già nel vino, come potrebbero anche essere la presenza di zentori lignosi, rilasciati ad esempio dalla barrique o dalle chips, qualora ci fossero stati messe. Ecco che questi coprono l'odore degli etilfenoli e dunque rendono, il consumatore non se ne accorge della loro presenza. Ma, e una cosa interessante è quello che dicono qui nell'altro punto, è che i consumatori esperti sembrano essere meno attenti, meno reattivi su questo prodotto rispetto, come loro chiamano, ai novizi. Come se i consumatori più esperti potessero considerare alcuni aromi del brett non come difetto, ma come probabilmente facenti parte di quello che è il bouquet normale che deve avere quel vino. Effettivamente un po' di brett può non essere fastidioso e può far parte, diciamo, di un certo equilibrio gustativo di un vino, un po'. Ovviamente un vino con concentrazioni molto alte, molto più alte di questo che può essere la soglia di percezione, questi famosi 600 circa microgrammi litro, 605 microgrammi litro vuol dire 605 parti per miliardo, tanto per dire quanto poco ne serve parti per miliardo. Ecco, valori molto superiori, non so, i 6.000 ovviamente renderebbero un vino totalmente imbevibile, ma probabilmente anche i valori vicini o superiore a 2-3.000 vengono questo difetto molto presente, molto invadente, praticamente con etilfenolo molto alto, il territorio si annulla e il vino diventa semplicemente un vino con una spiccata nota brettata che un po' uccide tutto il lavoro fatto dal produttore per rendere il suo vino ovviamente degno di un certo terroir e rappresentante un certo terroir. Allora, qui parliamo di l'ammine biogene, come vi ho detto in tutti gli eliti, per il termine di pocluore, un pochino di ammine biogene, però, come vi ho detto già nella lezione precedente, quella sui batteri, i ammine biogene presenti nei vini vengono prodotti essenzialmente solo da batteri lattici, diciamo durante o dopo la fermentazione malolattica. Infatti, questo gruppo di ricerca ha voluto vedere in un numero molto alto di vini, 79 vini, vedere il rapporto che c'era tra le ammine biogene rilevate e l'etilfenolo trovato, perché il brettanomices farà comunque tilfenolo, dunque se il brettanomices è davvero correlato alla presenza dell'ammine biogene, dovrei trovare ammine biogene alte, là dove trovo etilfenolo alto, se c'è correlazione tra questi due prodotti. Ebbene, loro non hanno trovato alcuna correlazione, e questo come c'è scritto, i loro risultati dicono in maniera molto decisa che non c'è correlazione tra ammine biogene e brettanomices. Questo è importante perché tanti anni fa si riteneva che il brettanomices potesse davvero produrre molte ammine biogene, compreso l'istamina, ma effettivamente nessuno studio scientifico ha mai provato questa sensazione. Semplicemente c'è una cosa che la presenza, la suscettibilità dei vini alla crescita dei batteri lattici, dunque la produzione di ammine biogene, comporta una suscettibilità delle stesse vini a farci crescere il brettanomices, per cui è facile che avere vini con ammine biogene molto alte possano anche essere vini con la presenza di brettanomices. Però questo lavoro, su un numero rilevante di campioni di vino, ha visto che non c'è correlazione, dunque brettanomices non va a far peggiorare o a incrementare in maniera significativa la presenza dell'ammine biogene. In questa interessante tesi di dottorato, che parla di interazione brettanomices con i batteri lattici, poi questa tesi ha ricavato anche un altro spunto più in seguito, cosa dice? Allora, sui lavori nuovi, questo è un lavoro molto nuovo, più che specie si parla sempre di ceppi. Vedrete che io ne parlerò spesso, in seguito da questi lavori, ne parlerò di ceppi. Perché? Perché i nuovi studi hanno confermato purtroppo che anche all'interno di brettanomices della specie c'è la stessa biodiversità di cui io vi ho parlato, ad esempio di sacronice cerevisiae, ecco, anche al suo interno c'è la stessa biodiversità. E vedrete che ci sono centri, come in questo caso, che hanno comportamenti molto diversi. E questo complica molto le cose, perché alcuni possono essere più sensibili, alcuni trattamenti, altri possono essere molto meno sensibili. Dunque l'effetto, l'efficacia del trattamento dipende non dalla presenza della specie brettanomices fluxellensis, ma dal ceppo presente. Questo complica molte cose, ma del resto la natura e la biodiversità è talmente ampia che ha le croce e delizia, anche in questo caso, dell'enologia. Cosa dice questo lavoro? Tanto per farci capire come la fermentazione malolattica non ha influito minimamente sulla crescita di questi sette ceppi di brettanomices che loro hanno saggiato. Contrariamente a quanto osservato in precedenza con questo ceppo di brettanomices. Esatto, qui vediamo come su otto ceppi questo ceppo sia davvero sensibile alla crescita dei batteri lattici precedente, sette francamente no. Ma anche la concentrazione di canolo ha visto una risposta differenziale tra vari ceppi. Ad esempio per un ceppo, questo ceppo tollerante, la malolattica non ha influenzato la crescita o la produzione di fenoli volatili rispetto a controlli in condizioni di etanolo alto o basso. Mentre in questo ceppo addirittura la presenza di alta concentrazione di etanolo ha aumentato la crescita e la produzione di etilfenolo addirittura. Vediamo come effettivamente molte caratteristiche enologiche, anche in brett, e certamente non ci si può meravigliare di questo, siano dipendenti non dalla specie ma dal ceppo. Entriamo un po' nell'ecologia. Dov'è? Dove si trova? Direi che è raro sulle uve, anche se si può trovare, l'abbiamo trovato. Raro in fermentazione, certamente molto raro durante la fase centrale più attiva della fermentazione, non c'è ossigeno e poi c'è già una popolazione in crescita che il sacrimine c'era in divisi. Ma, attenzione, se per caso ci fossero degli arresti fermentativi o delle lunghe code, ecco che lì l'ambiente, come vi ho già detto, potrebbe essere a lui molto favorevole. E dove è presente, dove è la nicchia ecologica maggiormente importante? Il vino. È in cantina che questo lievito si trova a essere maggiormente competitivo, perché sono pochi i misiorganismi capaci di vivere, di proliferare in un ambiente così difficile come è un vino, ricco in etanolo e povero in nutrienti. Ma Bretano Nice, abbiamo visto che ha caratteristiche metaboliche che molto ben si adattano a questa situazione. Ecco perché la nicchia ecologica di elezione è la cantina. Lo possiamo trovare sulle uve, certamente, ma se qui in cantina non trova le condizioni favorevoli, ovviamente non si sviluppa, non cresce. Se qui invece trova le situazioni favorevoli, nel corso del tempo ci vorranno mesi o molti mesi, ma uno potrebbe avere una situazione davvero poi molto molto preoccupante. Questo è un lavoro che abbiamo fatto, diciamo, in questi anni noi, in cui vediamo come in una cantina abbastanza piccola ci sono state queste fermentazioni alla G che sono avvenute l'una di semplice all'altro. Tra A e G ci sarà la differenza di 3-4 giorni l'una dall'altra. E a riempimento noi abbiamo fatto l'analisi microbiologica andando anche a vedere la presenza di Bretano Nice. Vedete, abbiamo trovato da meno di 10 cellule al millilitro, come in questo caso, a qualcosa come decine di migliaia di cellule al millilitro, centinaia, intorno a mille. Cioè variazioni molto diverse, cioè da zero a, non so, 50.000 cellule al millilitro. Una variabilità enorme. Allora dipenderà dalla cantina? Se l'inquinamento fosse dovuto solo alla cantina, io mi sarei dovuto aspettare un inquinamento simile per tutte le vasche. Tra la prima e l'ultima ci sono, ha detto, 3-4 giorni al massimo di differenza, per cui più o meno la situazione microbiologica alla cantina non ha avuto il tempo di cambiare così tanto. Mentre vedete l'enorme differenza. Questo vuol dire cosa? Vuol dire che probabilmente una parte del Bret, tutto il Bret, questo è difficile dirlo, era invece sulle uve e queste grandi differenze che possiamo vedere derivano dal fatto che abbiamo uve più contaminate ed uve meno contaminate. Quest'anno certamente andremo a analizzare molti più campioni per capire un po' meglio com'è la situazione, diciamo, non solo di questa azienda ma anche di altre aziende. Un'altra cosa che vale la pena considerare è il non rapporto tra le popolazioni rilevate all'inizio e la presenza dei fenoli volatili ritrovate alla fine. Se vuol dire che soltanto in un caso si trova a popolazione alta con i tilfenoli dico alti effettivamente, sono 80 microgrammi litro tra 4 tilfenoli e 4 til guaiacolo, per cui c'è un valore molto 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 basso. Però vedete come non c'è correlazione, perché negli altri due vini con popolazioni molto alte abbiamo intorno, siamo sotto i 20 microgrammi litro. E dunque vediamo come non c'è. Perché? Perché indubbiamente non basta averci le cellule all'interno. Queste cellule devono anche crescere, devono sopravvivere, devono trovare un ambiente favorevole in questi vini e in realtà in tutti i vini non hanno trovato un ambiente favorevole da poter produrre tanti fenoli volatili. Addirittura si sono trovati anche pochini, qui siamo intorno a 30 microgrammi litro, un pochino di etilfenoli anche nel vino dove non c'era la popolazione iniziale. Di sicuro, come dire, c'è stato un inquinamento che è naturale in una cantina, tra una vasca e l'altra, e di conseguenza un po' di brett è andato a finire anche qui, dove non c'era inizialmente, e questo brett ha prodotto un pochino, ma proprio un'idea di quelli che sono i fenoli volati. Comunque in nessun caso, in nessun caso, ha prodotto alla svinatura, poi neanche dopo, perché abbiamo ovviamente seguiti fenoli volatili neppure vicini alla soglia di percezione, anche perché sapendo la situazione iniziale, ovviamente la proprietà, i tecnici hanno drizzato le orecchie e hanno subito attivato tutte quelle strategie in modo da ridurre al minimo la possibilità di contaminazioni molto più dannose, ovvero controllo della malattica, una solificazione e una assoluta attenzione all'ossigeno, cioè travasi molto attenti in modo da dare meno ossigeno possibile. Brett, come avevo già detto, è davvero un microorganismo, ha davvero bisogno di ossigeno per poter crescere. Infine, ecco che il brettanumices, come dire, dov'è che si può trovare e, diciamo, può, qual è la fonte di contaminazione? Questo articolo qui lo dice bene, certamente, come abbiamo visto anche noi, può venire dalla vigna, certamente, ma se non trova le condizioni ecologiche giuste nella cantina, certamente non è quelle poche cellule che si possono trovare sulle uve. Tra l'altro sulle uve loro, questo lavoro, ma lo facciamo anche noi, utilizzano varie tecniche per andare a vedere le poche cellule, anche alcune tecniche che usano non solo mezzi selettivi, ma anche tecniche di arricchimento, cioè noi prendiamo, diciamo, un po' di mosto, lo mettiamo, diciamo, lo diluviamo con un mezzo liquido in cui può crescere brett, in modo che quelle pochissime cellule, forse anche una cellula in un litro, presente all'interno del mosto, ecco, piano piano, nell'arco di pochi giorni, comunque, non so, una settimana al massimo, ecco, che può crescere e ci può dare, diciamo, l'idea che in quel mosto c'è del brett, anche con popolazioni molto, molto ridotte. Tenere conto che anche le tecniche molecolari così tanto di moda non si spingono tanto sotto le dieci o alcune decine di cellule al millilitro, ancora. Per cui, se uno vuole andare a vedere, che ne so, la presenza di una cellula al millilitro, occorrono tecniche di metodologia come dei classico, come l'arricchimento, la, non so, la centrifugazione, filtrazione su membrane, eccetera, eccetera. Però, appunto, loro, come vi ho già detto, dicono, affermano una cosa, diciamo, molto interessante, cioè, la presenza di brett anche sulle uve non è negativa, se non nel caso in cui ho dei vini suscettibili. È perché la nicchia ecologica dove brett cresce e può davvero far danni è proprio nel vino, durante la conservazione. È quelli che lo devi stare molto attento, specialmente per quei vini che hanno subito fermentazioni alcoliche non troppo lineari, perché proprio in quel caso di vini con queste code fermentative dove ho poca CO2 e dunque possa avere un arricchimento di ossigeno del mosto vino, in cosa alla fermentazione, ecco, queste sono le condizioni migliori per la crescita del nostro brettanomice. Perché? Perché ci sono presenze di zuccheri e residui e perché c'è presenza anche di altri nutrienti. Dunque stiamo stati molto attenti alla conservazione di quei vini che hanno avuto fermentazioni alcoliche, come dire, non troppo perfette. Non c'è nulla di sicuro se il brettanomice derivi solo dalla vigna o solo dalla cantina. Di sicuro è presente sulle uve, ma certamente, poi su questo argomento ci ritorneremo, su questo aspetto, perché si sviluppi in cantina, ecco, deve trovare delle condizioni favorevoli, altrimenti rimarrà a popolazioni bassissime praticamente, come dire, non rilevabile. Quando è che si sviluppa in cantina? Allora, in cantina si è vista, e questo, diciamo, studiandolo o studiando le verificazioni si vede benissimo, e vi ho fatto anche un esempio, cioè, quando c'è una fermentazione che sta crescendo e che domina l'ambiente, i lieviti durante la fermentazione alcolica o i batteri lattici durante la malolattica, il brettanomice raramente si sviluppa insieme a queste, perché è un impedito che è, come dire, meno competitivo di questi, i saccaromice e i cerevisi o dei batteri, o di enococcus eni, batteri malolattici per la fermentazione. Ma dove si può sviluppare? Ecco, si può sviluppare come in coda alla fermentazione, specialmente se è una coda molto lunga, se sono fermentazioni stentate, oppure prima della malolattica, anche qui specialmente se è la malolattica, avviene settimane o mesi dopo. Ecco, in questa fase, tra fine fermentazione alcolica e inizio di fermentazione malolattica, è certamente una zona molto rischiosa, molto rischiosa. Ed è qui che noi dovremmo stare molto attenti, ma questo non basta, perché se io non avessi cellule di brettanomice non correrei rischi. Per cui è importante anche in un certo modo dire sì, è una zona molto pericolosa, ma come dire, se conosco il mio vino, se faccio delle analisi, posso, come dire, comprendere meglio il probabile rischio che sto correndo. Ad esempio, vini bianchi e rossi, se non faccio fare la malolattica, con aggiunta di SO2, posso fermare il brett, perché il brett è tendenzialmente poco resistente alla solfosa, ma vedremo anche qui, ci sono delle belle sorprese. Allora, come in questo articolo, tra l'altro anche molto bellino, la posizione anche grafica, fa vedere come effettivamente brettanomice produce di etilfenoli solo quando è vitale. Poi, se io ci aggiungo la solforosa, potrei ottenere tre tipologie di cellule, quelle che rimangono sempre vive, che potenzialmente possono dare origine al difetto, quelle morte, ovviamente non producono nulla, e le cosiddette vitali non coltivabili, cioè sono uno stato intermedio, cioè è come se fossero, sono vive ma hanno un metabolismo lentissimo, quasi stanno, diciamo, diciamo, si stanno dormendo, qui infatti le mette sul letto, è un letto d'ospedale. Ecco, e queste anche loro non producono etilfenoli. Di conseguenza, come dire, il trattamento, diciamo, le cellule, sono soltanto le cellule vitali, vive, quelle che, le cellule che si contano su piastra, che sono quelle, diciamo, responsabili delle alterazioni. Per cui, se io faccio un'analisi su vitale, attraverso ad esempio una semplice, banale, conta su piastra, io prendo soltanto queste. Se io faccio un'analisi con il DNA, prendo tutte. Prendo le vive, le morte e le vitali non coltivabili. Dunque, è bene considerare i risultati delle analisi che io faccio fare in base al metodo con cui queste analisi vengono fatte, perché i numeri che possono dare possono significare cose diverse. Sempre molto importante l'interpretazione del numero, è quello che mi dà il risultato. Il risultato non è il numero scritto accanto all'analisi, ma è interpretarlo, calarlo nella realtà del vostro vino. Queste sono le condizioni favorevoli del vino, per cui temperature, vedete, neanche troppo basse, neanche troppo alte, ma poi vedremo che ci possono essere delle grandi differenze. S2 molecolari sotto 0,5, ma anche qui ci possono essere ceppi, li anticipo, molto resistenti. La presenza di ossigeno è importante, perché in presenza di ossigeno abbiamo una crescita molto migliore, molto più veloce. In presenza di ossigeno vuol dire, che ne so, microossigenazione, oppure un travaso, oppure essere in legno invece che in acciaio, tutte queste. pH ovviamente è importante, come l'etanolo, anche se, attenzione, è abbastanza resistente l'etanolo, dunque può essere presente, specie con pH alti, anche etanolo molto importante. Prevenzione, la filtrazione, queste e quelle che vengono dette, la chiarifica, con caseina o gelatina, o col chitosano, usare il chitosano puro, che ha, come noi poi vedremo un'azione anche di chiarifica, perché può essere usata anche un chiarificante, oppure aggiunta di SO2, tutto insieme rispetto all'ossigenazione d'otto. Vedete come, insomma, ci sono tutta un'ampia schiera di operazioni da fare. Poi ne parleremo, perché tutte queste operazioni hanno dei pro e hanno anche dei contro. Non c'è un metodo sicuro per tutti e per tutte le occasioni e per tutti i vivi. Vedete qui come vi siano molte possibilità, dai chitosani, carboni attivi che ovviamente non hanno alcun effetto meteorologico, semplicemente tolgono i tilfenoli, ad esempio. Il calore, ad esempio, per pulire le superfici, le botti, le vasche, le tubazioni, l'ozono, sono molto interessanti, però va saputo usare e il trattamento va fatto in maniera, come dire, non banale, ecco, anche usare l'ozono è importante. L'UV, l'ampo è totalmente inefficace su materiali porosi, perché ovviamente l'UV non penetra all'interno di solo superficie, per cui è totalmente inefficace, ad esempio, dove c'è materiali porosi, come ad esempio il legno. Le radiazioni, beh, sono molto efficaci, ovviamente il problema è che noi bisogna portare le botti o le barricche alla macchina e non viceversa, per cui ovviamente è tutto molto più complesso e anche costoso, ma certamente sono molto molto efficaci. ecco, parliamo di biofilm. Questo articolo è molto importante, perché loro vanno a vedere in acciaio inox, per cui in tank di acciaio inox, sì, e quanto brettanumissi è capace di formare il biofilm. Perché vanno a studiare il biofilm? Vedete qui, questo qui è il polisaccaride esterno che ha prodotto, e qui la freccia indica, no, questi, e qui si vedono non troppo bene, però questi pallini che sono le cellule. In questo caso le cellule sono protette da questo biofilm e di conseguenza, cioè, e sono anche, aderiscono, per cui con un lavaggio anche importante, non muoiono e non vengono portate via. Loro hanno provato una soluzione acida con un acido lattico, ma non hanno avuto un buon risultato, oppure con la soluzione di soda caustica e per ossido di idrogeno, circa il per cento, che hanno avuto dei buoni risultati. Ci sono dei prodotti anche a base di acido peracetico, no, sono prodotti molto aggressivi, ma che tolgono anch'essi il biofilm. Il biofilm nel vino è poco considerato, se nella birra, nel mondo birrario il biofilm è molto considerato, non a caso in molti lavaggi vengono considerati anche degli enzimi, proprio per togliere i biofilm, nel vino non si pensa mai alla presenza dei biofilm, specie negli acciai, perché si pensa che nell'acciaio l'acqua calda possa fare già tutto, invece no. E non solo, si vede che gli effetti di questi lavaggi, anche di questo lavaggio molto intenso, non è sempre stato positivo come ci si poteva immaginare, perché in alcuni casi ha generato cellule vitali non coltivabili, cioè comunque cellule non le ha ammazzate, non le ha neanche riuscite a portarlo via tutto il biofilm, sono sempre rimaste delle cellule, per cui gli effetti del genere sul biofilm formato dipendono dal ceppo. Allora, se ci sono tutti questi problemi nell'acciaio inox, pensate in una barrique o in una botte, ecco che pensare di pulirlo e di pulire togliendo questo biofilm sia davvero molto importante. Ci sono vari prodotti che tolgono il biofilm, l'ozono è uno di questi, che riesce a, diciamo, a sciogliere il biofilm, però come ho detto va saputo utilizzare molto bene. Il problema barrique, il problema barrique o botti di legno, ma il barrique è ancora peggiore perché il rapporto superficie volume vino è molto favorevole per la superficie, ovviamente essendo più piccola rispetto ad una botte grande. E molti lavori già da tantissimo tempo hanno visto che, vedete, queste sono le fibre del legno con dentro le cellule di bretanonices, vedete? Ecco, fino all'interno dei poli di legno, fino a 8 mm. 3. Le barrique nuove possono essere più favorevoli, se inquinate possono essere più facilmente inquinate perché hanno i cuori più liberi e non solo, c'è anche maggiore ossigenazione rispetto alle barrique vecchie che possono avere alcuni, la onoforosità minore per cui meno scambio di ossigeno, ma del resto se le barrique vecchie può avere anche più problematiche perché possono anche essere più contaminate. È una contaminazione così profonda, è davvero difficile da togliere, davvero molto difficile. Poi ne parleremo in fondo. Per quanto riguarda la sanitizzazione delle barrique, possiamo vedere come ci possa essere l'acqua acidificata, perché acidificata? In modo che la solforosa che io ci metto sia ovviamente tutta molecolare, trattamento con l'acqua azonizzata, trattamento con ozono gassoso o il trattamento con S2 gassoso, cioè è bruciandoci dentro il solfino. Questo è certamente il meno costoso, è il più tradizionale, è il meno problematico, però risulta sempre essere molto molto efficace. bisogna lavorare su barrique pulite e asciutte, non bagnate, perché se dentro i porri c'è l'acqua, ovviamente se c'è l'acqua non entra nel gas. Di conseguenza, questo vale anche per il trattamento con ozono gassoso, ci vogliono barrique sempre pulite, perfettamente pulite e come dire, asciutte, non umide. Ovviamente sono tutti trattamenti costosi, specialmente in tempo, ci vuole sempre molto tempo, più che costosi per i materiali, però ovviamente sono le poche cose che si possono fare invece di cambiare e di buttare via le barrique per prenderne sempre nuove, che è una pratica. Certo interessante, cioè se uno potesse cambiare le barrique ogni 2-3 anni, tutte, sempre tutte le barrique, avrei meno problemi di contaminazione, però ovviamente le spese per una gestione del genere sono davvero molto alte. Qui si parla, e volevo introdurre, questo concetto di stabilità microbiologica del vino, cioè abbiamo visto i batteri lattici prima, però quello che ora noi andremo a affrontare è un po' questo, cioè come controllare questi organismi all'interno del vino, un vino che non è sterile. Cercare la stabilità, cioè proteggere le caratteristiche chimico-senzionali del vino, cioè mantenerle, farle evolvere, maturare, ma non fare maturare le caratteristiche del vino, del territorio, il terroir, ma se un vino mi prende, diciamo, saltato di brett, alla fine è un vino brettato, non è più né un'uva né un territorio, è soltanto un difetto, idem per un vino che può avere una volatile altissima, e un vino con una volatile alta non è più un vino di un territorio. Ma la stabilità, cioè il fatto di avere una maturazione, come direi, naturale, che non stravolga le caratteristiche sensoriali del mio vino, non vuol dire sterilità, assolutamente. Nel vino ci saranno sempre lieviti, sempre batteri, addirittura potrebbe anche essere di una piccola popolazione, non so, poche cellule brettanomiche, comunque non rappresenteranno mai, non rappresentano un problema, se ne ho 10 o 50 cellule al millilitro, ovviamente. L'importante è che la popolazione presente nel vino non sia elevata, altrimenti si corrono grossi rischi, per cui il vino risulterebbe instabile, cioè potrebbe nel medio o nel lungo periodo poi, come dire, presentare il conto, perché questi organismi stanno a popolazioni elevate e devono vivere, cioè devono mantenersi vivi, per cui qualcosa faranno di sicuro. E il più delle volte, se c'è il brett, o se ci sono anche i batteri lattici, che in certi casi, in bottiglia, sono forse più pericolosi, di sicuro i più pericolosi del brettanomiche, ecco, se ho molti batteri lattici, qualcosa di sicuro faranno. E come avete visto, quando ho parlato dei batteri, sono in grado i batteri di utilizzare qualunque, praticamente, qualunque cosa presente nel vino. Tranne l'etanolo, tutto il resto li può andare bene. Allora, andiamo a vedere questo articolo molto interessante, che nella nostra esperienza non avevamo mai visto una cosa del genere, perché noi abbiamo anche analizzato vini vecchi, per esempio alcuni Brunelli di, non so, imbottigliati anni, già da alcuni anni, credo il più vecchio, da una decina di anni. E noi non avevamo mai trovato nulla. Abbiamo analizzato anche dei vecchi Baroli, cioè Baroli degli anni 30, cioè Baroli che avevano, ovviamente, 70 anni. Non avevamo trovato nulla di vivo. Bene, qui questo gruppo francese, molto, molto importante, analizzato nel 2006 questi vini, cioè passando da un vino che aveva soltanto 97 anni, un vino del 1909, a un vino dell'81. La cosa incredibile, a mio avviso, cioè davvero, noi non avevamo mai trovato in vini vecchi delle popolazioni di Italia, bene, non ha trovato non soltanto lieviti, ma anche batteri lattici. E dove ho indicato la freccia, sono tutti quei vini dove i lieviti erano rappresentati da Bretano Mices. Per cui nel vino che aveva 97 anni è stato trovato etanolo 11,2 pH 3,3, tanto per indicare quello che potrebbero essere le caratteristiche chimiche. 400 lieviti, che erano tutti Bret, nessun, eh, nessun batterio lattico. Il vino nel 26-2000 senza batteri lattici, ma vedete come effettivamente vi siano, addirittura in questo vino ci sono 3.700 Bretano Mices e 26.000 batteri lattici, 26.000 batteri lattici, una porzione altissima. Chissà qui, a parte il 4-tilfenolo che 5.000, in questo caso 6.000 o 4.000, vedete che abbastanza alti, però chissà qui quant'erano le ammine biogeni, sarebbe arrivato a farci un'alzi. Vedete come nel vino F, che è solo del 49, no, è tra i più giovani, si trovano 150 lieviti, non Bretano Mices, ma la bellezza di 4 milioni, 4 milioni di batteri lattici vivi. La cosa è quasi incredibile, se ne ho noto i 4 milioni della popolazione che posso trovare un vino in malolattica, in piena malolattica. Questa cosa mi lascia davvero sorpreso e sorprendente. Dico, qui sì, chissà cosa, chi crede sì che poteva avere questo vino. Nel vino più giovane, dell'81, che aveva comunque 25 anni, ci troviamo 540 Bretano Mices e 3.500 batteri lattici. Vedete come tra lieviti e batteri, comunque in vino, perlomeno con, qui non mi dicono le concentrazioni di solforosa che erano presenti, ma io immagino praticamente niente in vini così vecchi. Però con alcol, vedete, abbastanza bassi, con pH tutto sommato non bassissimi, il pH più basso è un 3,3, effettivamente questi vini coccolano molto bene gli organismi che avevano al loro interno. Perché io, come detto, nei vini toscani, o anche in alcuni baroni degli anni trenta che abbiamo analizzato, non abbiamo mai trovato nulla di vivo, mai. Però, diciamo, è interessante vedere come, di nuovo, la matrice vino sia così tanto diversa di come la matrice vino certamente influenzi tantissimo la vita delle cellule, dei microrganismi presenti al loro interno, perché sono organismi viventi che si trovano in un ambiente favorevole e ovviamente stanno lì, come dire, evidentemente stanno lì anche oltre 90 anni. Nella stabilità del vino, diciamo, dei microrganismi del vino, c'entrano anche alcuni altri parametri che possono essere la temperatura, il pH, l'etanolo, come abbiamo visto. La temperatura è molto importante perché ovviamente con temperature molto basse la crescita microbica è molto rallentata, quasi ferma, con pH molto bassi e ovviamente, banalmente, una piccola giunta di solforosa è molto più efficace rispetto a un pH alto. Anche l'etanolo molto alto o zuccherini molto elevati creano un ambiente con una elevatissima pressione osmotica, di conseguenza, a selezionare di molto le popolazioni microbiche che possono crescere. Di conseguenza risulta essere un vino molto più difficile da colonizzare. Però attenzione, se ho un pH alto, ma anche un pH molto elevato, come dire, le due cose si vanno a sommare, per cui alla fin infine il vino diventa meno selettivo e invece più attaccabile dai microrganismi, sia diabidi che batteri. A progettazione di temperatura, questo articolo pubblicato scorso anno, dove hanno preso due ceppi, vedete, di nuovo, non si parla più di specie, ma di ceppi, hanno fatto un inoculo, iniziale da una parte 500 e con questo ceppo 260 lieviti, e l'hanno messo, questo è lo stesso vino, con due ceppi diverse, a temperature diverse, 12, 14, 16, 18, 20 gradi, e dopo tre mesi sono andato a vedere cosa era successo. Ecco, questo ceppo a 12 gradi non è cresciuto, è rimasto uno. Ma anche a 20 gradi, tutto sommato, sì, la popolazione da 500 a 600, cioè poca roba, qui mille, insomma, questo vino, anzi, questo ceppo, il ceppo L0611, non era adatto per questo vino, perché comunque è cresciuto poco. Per cui se io ero in cantina con questo ceppo, sono molto tranquillo, cresce pochissimo. Invece questo ceppo è molto più problematico, perché a 12 gradi in tre mesi mi aumenta di, da 260 cellule a 63.000 cellule, cioè di praticamente 200 volte, 200 volte, a 14 gradi, già si arriva al milione, cioè qui aumenta di 5.000 volte, capito? Che grande differenza che c'è nello stesso vino, eh? Con questi due ceppi diversi, uno probabilmente quasi non cresce ed uno cresce tantissimo. Questo ceppo genererà sicuramente problemi anche mantenendo il vino a 12 gradi. Allora, loro di cosa dicono? Siccome mantenere temperature basse, che è bassa di 14 gradi, e questo ceppo a 14 gradi cresce già che è una meraviglia, tra le altre cose, e dice, anche nelle cantine interrate a bordo è impossibile, per cui occorre cose, non si può più pensare alla temperatura come sicuro effetto di terrente per la crescita del bretto, no? Ma loro fanno questa bella, come dire, distinzione in ceppi presenti nei vini sono performanti e vini sensibili, cioè in pratica le due cose sono collegate, in questo caso il vino, questo vino è sensibile per questo ceppo che diventa performante, lo stesso vino invece non è sensibile per questo ceppo che non è per niente performante. Ecco che, come dire, come dice, quando la popolazione di Bertano Mices è superiore a 100 a inizio dell'estate, il rischio di comparsa infermevolatile è reale. Sì, è vero, però se ho questo ceppo, sì, è reale, ma insomma, potrei stare tranquillo. Se ho questo ceppo, non devo stare per niente tranquillo, perché tempo poco mi trovo a popolazioni altissime. Per cui è importante, in questo caso, come dicono anche loro, e questo devo dire la verità, non viene scritto spesso negli articoli scientifici, le popolazioni dovrebbero essere quindi determinate all'inizio dell'estate. Cioè, occorre fare un po' di analisi, e non solo. E dice, siccome è impossibile controllare, laddove non è possibile controllare le temperature e tenerle molto basse, ecco, un attento, un motoraggio alla popolazione del Brett, in estate è raccomandato. È un'unica arma per sapere le popolazioni che ho, si stanno crescendo oppure no. E poi, deve anche essere presa in considerazione dei rimedi, delle misure di controllo, come i solfiti o altri metodi, chitosano, eccetera. Questo è importante. Di nuovo, ceppi diversi dello stesso vino con comportamenti opposti. Questo bisogna tenerlo sempre presente. Quando, delle volte, mi domandano, ci domandano a noi, diciamo, se una certa popolazione può essere, può crescere oppure no. E noi, cosa si risponde spesso? Dipende dal ceppo. È come se fosse una scusa. Purtroppo, il mondo reale, questa grande biodiversità che è presente nei microrganismi, in questo caso del vino, è tale per cui c'è una grandissima variabilità, come dire, fenotipica, non solo genotipica, ma si comportano anche in maniera diversa. E di conseguenza è difficile sapere o immaginare, immaginare senza vedere, senza un controllo, che una popolazione stia stabile, non cresca, oppure che cresca. Non si può sapere. Occorre, purtroppo, direi, fare delle analisi, perché, come dire, la percezione, in questo caso, non c'è di nessun aiuto. Occorre analizzare, vedere cosa sta accadendo, attraverso delle banali, direi, analisi microbiologiche o chimiche. Non so se ci sono delle domande. Comunque qui c'è sempre la mia mail per potermi scrivere, qualora vi venisse in mente qualche richiesta di informazione, non ci sono problemi. Posso parlare? Sì, allora, io volevo chiedere una cosa sempre di nuovo sul mausi, Giacomo. Prima dicevi, se non l'ho capito male, che in presenza di abbastanza ossigeno il brettano misce sproduce mausi. Volevo capire meglio l'abbastanza, cioè può essere una barricca, abbastanza ossigeno, ci serve qualcosa di scolmo? No, no, allora, dovrebbe bastare una barricca, non penso a scolmo o a niente di tutto questo. Come dire, quasi il naturale apporto di ossigeno che tu hai in una barricca, oppure esempio in un travaso, te fai un travaso proprio perché il vino ha bisogno di ossigeno, perché è leggermente ridotto, ecco, proprio è il travaso, in quella maniera, la popolazione di brett, dopo il travaso, può riprendere, come dire, a crescere, perché in quel momento gli sta dando una spinta a crescere con l'ossigeno. Questo non vuol dire non fare il travaso. Cioè, qui la cosa è, questo vuol dire, il travaso lo posso fare a cuor leggero se non ho una popolazione di brett o se è bassissima, cioè se ho 50 cellule posso stare abbastanza tranquillo, se ne ho 10.000, beh, devo essere più guardingo, per cui sì, faccio il travaso, ma a caso mai controlliamo che succede dopo? Certo, grazie. Continuando, andiamo un pochino a vedere quali sono gli elementi che noi possiamo usare per raggiungere questa stabilità microbiologica di un vino. Stabilità che, vi ricordo, non è sterilità, non si vuole distruggere tutta la microflora microbica presente in un vino, assolutamente, ma semplicemente evitare che questa mi trasformi il vino in qualcos'altro. Allora, l'andria solforosa. L'andria solforosa in realtà non è sostituibile in neurologia, ancora non c'è niente che la possa sostituire. Queste sono le azioni principali. Noi ci va a interessare, diciamo, l'azione antimicrobica, essenzialmente, però anche è un'azione antiossidante importantissima in alcuni casi. L'esorforosa in neurologia, diciamo, c'è già da decenni e decenni e solo negli ultimi anni, specialmente da quando c'è stata una maggior sensibilità sull'SO2 in quanto è un allergene, l'SO2 è un allergene, però attenzione, anche questo è un allergene e come tale può dar noia a gruppi di persone particolarmente sensibili, non dà noia necessariamente a tutti, ovviamente. Ecco, ci sono dei limiti legali, tendenzialmente più bassi. Noi abbiamo parlato di vini senza solfiti in questo ciclo di lezioni, che domani parleremo poi in qualche altro ciclo di approfondimento, diciamo così, eventualmente. Però, appunto, prima di fare una lotta all'allergene solforosa nel vino, è bene ricordare uno che, insomma, anche l'etanolo, il vino ce l'è tanto, non fa bene, per cui, attenzione, è che poi dare un vino senza solforosa, ma pieno di ammine biogene, è forse pure peggio, è che ci deve essere differenza in un prodotto, se io ottengo 100 mg di seduto totale, o semplicemente 30 o 40 di seduto totale, cioè ci deve essere differenza, e ci sarà differenza per il consumatore, perché un consumatore, anche se è sensibile alla solforosa, un conto se ne do 200 mg per litro, o se ne do 30 o 40, insomma, l'effetto dell'SO2 dipende anche moltissimo dalla sua concentrazione, e dunque, come dire, attenzione a derive, come dire, quasi talebane, il senso solfiti, sempre ad ogni costo, perché il vino senza solforosa, è una conquista, ma una conquista difficile, specialmente da mantenere, perché si può fare, ma ci vogliono delle, come dire, delle grandi capacità, e anche bisogna stare in una zona decisamente vocata, perché ci vuole una grande uva, altrimenti è impossibile farlo, un vino senza solforosa, come dire, naturale, certo, se poi vado, uso freddo, filtrazioni, è un'altra cosa, se lo faccio molto tecnologico, si può anche pensare di farlo, però attenzione, appunto, non è così facile fare un ottimo vino senza solfiti. Ecco, in questo articolo di alcuni anni fa, questo è del 2013, vengono presi in considerazione 108 ceppi di brettanomices, 108 ceppi, è un bel articolo, perché prende in considerazione tanti ceppi, no, perché siccome la specie, brettanomices bruxellensis, ha una grande diversità genetica, ecco, hanno preso molti ceppi, in modo da rappresentare questa grande diversità, ed hanno sottoposti a varie concentrazioni di SO2, qui mi parlano come SO2 molecolare, vedete che, qui c'è una tabellina, tanto per capire cosa si, come cambia il SO2 molecolare in funzione del pH, vedete, a parità di SO2 totale, anzi, questa è di SO2 libera, la molecolare cambia tantissimo, prendete dieci volte da pH3 a pH4, a pH4 è 0,6, a pH3 è 6, ed è una differenza più che notevole. Allora, cosa dicono di interessante per noi, poi perché fanno vedere anche come il metabolismo del brettanomices cambia se c'è tanta SO2, probabilmente è una sorta di, come dire, di protezione. Però a noi cosa ci interessa? Ci interessa che il 18% dei ceppi è poco resistente, cioè già 0,1 mg di litro di molecolare lo riesce a, come dire, a rallentare o a uccidere questa popolazione. Ma due ceppi, cioè poco meno del 2%, sono in grado di crescere con 0,6 mg di litro di SO2 molecolare, cioè una quantità, insomma, abbastanza elevata. Ecco, capite bene come vi sia una grandissima differenza, cioè qui si parla di differenza, del SO2 molecolare di 6 volte, da 0,1 a 0,6, ecco, nel medio tra 0,1 e 0,6, ci stanno circa l'80% delle popolazioni che, come dire, sono in grado di sopravvivere a quantitazioni sempre crescenti. Ecco che l'azione del SO2 è, per il brett, dipende dal ceppo e dipende dal vino, ovviamente, dipende dal pH. in molti tabelle, un pochino, che parlano brettanomyces bruxellensis, come specie, li trovi, alcuni dicono che è molto sensibile, alcuni dicono che è molto resistente, certo, all'interno della popolazione, come vi ho già detto, all'interno della specie, ci sono tante, delle differenze enormi sulla, sulla resistenza alla solforosa. Dunque, di nuovo, parlare di specie, in questo caso, risulta riduttivo. Noi, io non ti posso garantire che una piccola aggiunta funzioni nella tua cantina, nel tuo vino. Può funzionare nella cantina, nel vino del tuo vicino e nel tuo caso, invece, può essere molto meno efficace. Perché potreste avere o ceppi più resistenti o vini più sensibili? Attenzione, le due cose vanno prese insieme, ceppo più resistente e vino più sensibile. Qui si ritorna a questa bella tesi del 2011. Anche qui, ecco lui, che va proprio a parlare, citando articoli e lavori di autori vari, della grande variabilità genetica dei ceppi, è che questa variabilità genetica proprio si rispecchia, come avevo già detto, sulla variabilità fenotipica, cioè su quello che fanno i brettanomici. Per esempio, la tolleranza all'SO2 può variare ampiamente, per cui dà una tolleranza molto alta, come sacrile cerevisia, e una bassa tolleranza. ma anche all'etanolo, no? Perché questo ceppo tollerà sia l'errivata la concentrazione dell'etanolo che il basso piaccia. Ecco, perché vi ho fatto vedere di nuovo questa diapositiva? Proprio per farvi capire come vi sia una grande, come la biodiversità di cui tutti i produttori sono lieti e contenti, avere un ambiente più diverso, ecco, la stessa biodiversità può generare anche delle criticità. È la natura, mi vorrei dire, è la natura che è così tanto variabile e che ci può, come dire, ci mette sempre alla prova. Per cui, ecco, mai pensare che siccome il vicino fa una certa cosa oppure il mio nonno faceva una certa cosa vada bene anche per me, mai darlo per scontato. Il mio vino è diverso e i microrganismi possono essere diversi e possono interagire diversamente con un vino, con il mio vino. Sono sempre, come dire, sono sempre esseri viventi. Dunque, la matrice dove questi crescono, cioè il vino, è importantissima e l'interazione con il vino è davvero importante, essenziale. Cosa possiamo, diciamo, usare al posto della sorforosa? L'isozima, solo per batteri lattici, ma ha grossi problemi, il chitosano, puro per i lieviti, poi vediamo chitosano anche lui, delle belle difficoltà, oppure si sono derivati del chitosano per i batteri lattici e anche acetici, filtrazione chiarifica, anche queste portano giù la popolazione. C'è da dire che in tutte queste pratiche proteggono il vino solo temporaneamente. se usano l'isozima, il chitosano, sono molecole grosse, cioè una volta che queste precipitano e sono sul fondo, il vino, se viene ricontaminato, non è protetto. idem, una volta filtrato o chiarificato, quel vino non è che sia protetto, se viene contaminato, la popolazione può di nuovo, come dire, crescere nuovamente al suo interno. Per cui sono tutti pratiche che proteggono il vino temporaneamente, per cui quando si fanno occorre, come dire, stare molto attenti a non ricontaminarli subito, altrimenti si è buttato via tempo, denaro e anche un po' di qualità del vino. L'isozima derivato dal chiesosano non sono utilizzabili per i vini biologici e l'isozima dà molti problemi, l'isozima deriva dal bianco dell'uovo, di conseguenza è un allergene e già da tanti anni, no, quando si pensava al suo utilizzo, sono stati fatti degli studi e si è visto che l'isozima può rimanere all'interno del vino in concentrazioni anche sensibili, questo è un altro articolo, anche questo è abbastanza vecchio, l'isozima ritarda nei rossi, il blocco nei bianchi e la malolattica, ma se la blocca nei bianchi vuol dire che rimane attivo all'interno del vino, se no la sua azione sarebbe come nei rossi che ritarda e basa, cioè uccide la popolazione per cui, come dire, prima il vino rosso deve essere ricontaminato per pensare che la malolattica possa avvenire. e siccome è un allergene a parte ci sono delle, come dire, delle grosse e anche diciamo molte ma i metodi per andarlo a rilevare nel vino sono sempre in continua evoluzione per cui se uno lo usa è obbligatorio passativo metterlo in etichetta perché insomma il rischio di essere sgamati è certamente non irrilevante. Effetto l'isozima questa è una cosa bellina cioè questa è la massima di trattamento 2 milioni di batteri lattici 2 milioni e 6 trattato con l'isozima è diviso in due vasche A e più B vedete la differenza uno vedete uno sui lieviti questi lieviti picchia sono lieviti che stanno nel vino hanno come dire alcuna azione negativa anzi sono quei lieviti picchia o anche alcuni candida che sono quelli che come dire che possono caratterizzare la naturale evoluzione di un vino diciamo così possono dare una mano a un vino a evolversi la popolazione rimane costante perché l'isozima non ha alcun effetto sui lieviti ma su batteri lattici in questo caso abbiamo una vasca che ha funzionato da 2 milioni a 1.000 in pratica è diminuita di 2.000 volte attenzione il diminuto di 2.000 volte non è che sono scomparsi totalmente l'azione è comunque molto ampia qui è del 99,9% che è tantissima però siccome parlo da molte cellule avrò sempre delle cellule residue nell'altro caso la vasca B ha funzionato ne trovo però comunque molte più cellule ne trovo invece di 99 diciamo di mille volte di meno ne trovo 20 volte di meno la differenza non è certo da poco non lo so come mai forse è un problema di omogenizzazione dell'isozima l'isozima è una molecola abbastanza grossa che tra l'altro in vini specialmente rossi questo è ovviamente un merlocco con cui vino rosso come dire tende a precipitare perché è come se uno facesse mettendoci l'isozima un certo accollaggio ovviamente deve metterlo in sospensione per del tempo perché questo l'isozima deve toccare le cellule perché se la cellula non passa sulla molecola di l'isozima non è che sente l'affetto non è come l'SO2 che è una molecola molto piccola che si diffonde molto velocemente nel vino per cui basta fare un piccolo rimontaggio e poi come dire in realtà l'SO2 tende abbastanza bene a diffondersi no? in questo caso è una molecola molto grossa e di conseguenza deve come dire toccare la cellula se non tocca la cellula per cui se non è ben omogenizzato potrà avere questi casi che una vasca ha funzionato un'altra porzione non ha funzionato attenzione chitosano anzi chitosani vi farò vedere come alcuni studi recentissimi hanno davvero molto molto complicato la situazione perché chitosano sembrava quasi una panacea beh gli ultimi studi invece insomma mettono questo prodotto davvero sotto un'altra un'altra prospettiva il chitosano viene utilizzato essenzialmente per la riduzione del brett su alcuni articoli scientifici sembra cioè dimostrano che il saccharomyces cerevisia è molto più resistente di brett tant'è che se io l'utilizzassi in fermentazione quasi quasi non ha alcuna azione sul saccharomyces su alcuni prodotti viene sconsigliato di usarlo in fermentazione perché un conto è come dire non uccidere il lievito saccharomyces cerevisia però se c'è una fermentazione il lievito saccharomyces non deve soltanto vivere deve lavorare e duramente per cui potrebbe semplicemente ridurne la vitalità per cui se non uccide le cellule potrebbe comunque renderle meno attive in coda alla fermentazione per questo in alcuni prodotti c'è proprio scritto di non usarlo alcuni preparati commerciali non puri sono descritti come generalmente biopolimero non allergenico di origine fungina derivato dal chitosano poi in secondo delle macchie cambia un po' il nome vanno ad un'azione contro i batteri lattici e anche i batteri acetici talvolta è esclusiva cioè non fanno nulla agli eviti ma hanno una potenzione antibatterica questi non sono utilizzabili ovviamente in regolatura biologica questi prodotti questa è la delibera risoluzione dell'OIV in cui il chitosano di origine fungina attenzione il chitosano di origine fungina il chitosano di origine ad esempio dai crostacei non può essere utilizzato avrebbe il stesso problema del disozima cioè si porterebbe dietro gli allergeni del carapace e dei crostaci per cui il chitosano utilizzabile nell'industria alimentare risultato di origine fungina e nel vino può utilizzare esempio come per ridurre i tenori metalli pesanti per togliere le crotossinà ad esempio o per ridurre i microorganismi in special modo il bettono-mice che effettivamente sembra essere come dire tra i meno resistenti a questo a questo prodotto ma ora poi vedremo c'è un limite 10 grammi per ettolitro i sedimenti sono eliminati devono essere eliminati poi vedremo perché quando è entrato il vino anche con pochi grammi per ettolite comunque farà come se facesse una piccola chiarifica un piccolo collaggio è ovviamente l'isozima e il chitosano che nei primi giorni nei primi momenti anzi proprio nei primi giorni devo mantenerlo sempre in sospensione proprio perché deve come dire prendere deve catturare le cellule di brettanomice poi si lascia tutto il vino fermo ovviamente si va a depositare sul fondo e questo fondo deve essere tolto rapidamente dopo dieci giorni di due settimane di quel vino non viene più mosso in modo che il fondo sia più compatto deve essere tolto perché poi lo vedremo questo è il chitosano il chitosano praticamente la cellula lo va anche qui lo faccio vedere da questo perché è bellino il meccanismo di funzione è che la cellula nella parete lo va a mettere il chitosano al posto della chitina è per cui come dire scassa la funzionalità della parete e questo porta poi alla cellula alla morte vedete qui la differenza proprio visiva il microscopio tra una cellula prima del trattamento e dopo il trattamento con tutti questi bozzi in pratica qui la parete ha perso la sua struttura la sua funzionalità e di conseguenza la cellula può anche diciamo morire ecco qui un trattamento di col chitosano fatto da da lieviti e qui ho fatto vedere una cosa diciamo qui ha funzionato al 99,5% sareste contenti certo però questo vuol dire sempre che come vedete io non vado a uccidere tutti i lieviti retanomici se vado a 14.000 cellule arriva a 80 cellule 80 cellule può essere una popolazione che può essere più che sufficiente cioè può per non darmi problemi nel medio periodo ovviamente se il mio vino è molto sensibile dopo l'effetto del chitosano queste 80 cellule potrebbero anche ricrescere non è come la solforosa che se io ce la aggiungo rimane per mesi il chitosano una volta che è precipitato non c'è più e il vino è scoperto dopo cosa fanno queste 80 cellule se il mio vino è abbastanza resistente non ce la fanno a crescere o se le condizioni in cui emetto il vino impediscono la crescita viceversa se il mio vino è molto sensibile piano piano ovviamente non in un giorno non una settimana ma in qualche mese queste 80 cellule potrebbero ritornare tranquillamente ad essere 10.000 è bene come dire è bene sempre essere come dire capire bene quello che si sta facendo e la durata dell'operazione il chitosano come l'isozima come la filtrazione una volta fatta il vino non è più protetto dunque le popolazioni che rimangono saranno molto minori numericamente però come dire potrebbero ricrescere se non se non pongo in atto altre operazioni effetto chitosano qui siamo verso la fine e questo lavoro è davvero molto bello perché prende in considerazione due tipi di due chitosano diversi tra l'altro come dire fa vedere come esistano sotto questo nome chitosano prodotti chimicamente come dire diversi andando a stabilire attraverso alcuni parametri prende in considerazione 53 ceppi di brettanomyces diversi un numero abbastanza alto e prende in considerazione anche di vini diversi bene qui fa vedere soltanto due ceppi un ceppo che è considerato resistente al chitosano e un ceppo invece che è sensibile al chitosano vedete che poi il ceppo sensibile è rimasto sensibile anche con piccole dosi e non ha fatto tanto per capire questa resistenza o la sensibilità al chitosano come funzionava hanno fatto delle aggiunte diverse 0,1 grammi litro 1,4 10 grammi litro che è il massimo è addirittura 100 grammi litro la cosa bella è che il ceppo tollerante che è lui è rimasto tollerante anche a dosi altissime cioè anche la dose di 100 grammi litro cioè da questo punto di vista la genetica di questo ceppo le sue caratteristiche proprio del DNA funzionali lo rendono davvero estremamente resistente a questo al chitosano cioè su 53 ceppi testati ecco lui è stato il più resistente però andiamo a vedere attentamente e allora su questo grafico sapete ve lo spiego un poco allora le linee nere che sono queste qui questo qui nero sono il vino senza trattamento tutti sono stati inoculati con circa 10.000 cellule a millilitro che è il punto iniziale no? e sono stati usati due tipi di chitosano loro hanno chiamato F1 e F4 ed è il nero continuo e il nero tratteggiato poi cosa vediamo? vediamo delle linee grigio chiare che o grigio oscure grigio chiaro e grigio oscure sono i due tipologie di chitosani per cui grigio chiaro e grigio oscuro sono i due chitosani vediamo dove si può vedere meglio ecco qua linea come dire linea continua o linea tratteggiata è il vino il liquido la linea tratteggiata è il vino la linea continua e invece sono i fondi del vino le fecce è molto complesso questo grafico però cerchiamo allora vino A il ceppo sensibile il ceppo resistente del vino A dopo il trattamento effettivamente come dice qui tutti e 53 ceppi di Bertano Mice sono stati colpiti almeno transitorialmente dal chiuso hanno avuto un effetto negativo effettivamente anche questo subito dopo il trattamento vedete che ora le cellule diminuiscono rispetto al vino non trattato che invece aumentano sempre costantemente ma transitorialmente perché perché dopo sono due minuti al terzo giorno poi dopo sono cominciate a crescere e vedete come questo ceppo malgrado l'aggiunta di chitosano dei due chitosani tutto sommato hanno solo rallentata la crescita e il non trattato sono partiti da dieci alla quarta e sono arrivati a dieci alla quinta i due trattati siamo poco sotto ma è questione di tempo cioè probabilmente per arrivare a dieci alla quinta in questo caso invece di dieci giorni ci potranno mettere venti giorni ma prima o poi ci arrivano anche loro chitosano qui ha avuto un effetto soltanto molto transitorio ma certo non è definitivo lo stesso ceppo nel vino B ha comportamento diverso innanzitutto quelli non trattati vedete come crescono di più il vino B è più come dire a questo ceppo il vino B ci cresce meglio infatti in questo caso arriva a dieci alla settima quasi a dieci milioni al militro qui arriva sotto dieci alla sesta come ad esempio nel vino C anche qui la crescita del testimone è sotto dice la sesta e anche in questo vino vedete come il trattamento con i guti di chitosani li uccide le cellule inizialmente specialmente quelle presenti nel vino ma poi dopo ricrescono le cellule presenti nel anzi ho sbagliato non uccide allontana le cellule dal vino perché precipitano perché diminuiscono poi quelle presenti nel vino comunque ricrescono perché dico non le ha uccise ma le ha allontanate perché vedete questa linea qui grigia chiara continua o questa linea qui grigia scura continua che è sotto nascosta da quella nera sono i bertano miciens presenti nei vini trattati ma sui fondi in pratica cosa vuol dire che le cellule che non trovo nel chiaro sono andati nel fondo perché il chitosano qui ha avuto un effetto essenzialmente di come una chiarifica che ha portato giù le cellule non le ha uccise come le ha uccise qui e anzi queste cellule sia nel fondo e a maggior misura del fondo stanno crescendo bene perché nel fondo ad esempio ci sono come dire più banalmente più nutrienti ci possono essere perché nelle fecce sono più ricchi di nutrienti più ricchi di aminoacidi banalmente vedete in questo caso il fondo ha 10 milioni di cellule il suo chiaro ne ha poche decine di migliaia la differenza è enorme questo sta a indicare proprio che questo trattamento in questo vino ha portato giù le cellule le ha mantenute vive e nel fondo sono cresciute ecco perché ma questo c'è scritto francamente in tutti nel protocollo il fondo trattato poi va allontanato altrimenti corre il rischio di avere questo problema e sarebbe anche un rischio che tutto sommato la popolazione vedete che è sempre in crescita con tutti e due i tipi di chitosano usati la popolazione nel vino per cui in quello vino che vi rimarrebbe la popolazione nell'arco di due settimane ritornerà al livello iniziale per cui questo effetto il trattamento di chitosano tutto sommato non ha avuto un grande risultato perché pian piano queste cellule cresceranno in questo vino lo stesso ceppo ha avuto un comportamento un po' diverso con sembrerebbe che un chitosano avesse avuto in questo vino un effetto maggiore perché da dieci alla quarta nel vino chiaro siamo arrivati a poche cellule a poche decine di cellule per millilitro di vino che ci sta benissimo e vedete che non crescono neppure con un altro tipo di chitosano stanno ricrescendo perché da decine sono arrivati a migliaia cioè c'erano cento volte più cellule cioè cento volte meno efficace questo tipo di chitosano e qui stanno crescendo lentamente ma guardate quante cellule ce ne sono in pratica nelle 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 fecce praticamente tutte le cellule di nuovo che qui sono state tolte sono nelle fecce il chitosano questo tipo di chitosano è anche attivo nelle fecce vedete come nelle fecce la popolazione decresca questa linea continua grigia chiara decresce allora questo cerco è resistente ma in questo vino almeno un chitosano sembra funzionare discretamente bene la cosa mi sembra abbastanza complicata quasi confusa ma purtroppo questo studio è davvero stato molto interessante perché molto complesso andiamo a vedere invece il ceppo sensibile effettivamente sensibile nel vino A che in cui con questo ceppo non aveva avuto alcun effetto il trattamento del chitosano è invece il vino che con questo ceppo ha avuto un effetto importante vedete boom le popolazioni muoiono sia nel chiaro che nel fondo che nella feccia muoiono e non crescono il trattamento qui è stato perfetto senza trattamento arrivavano a milioni di cellule con il trattamento zero cellule benissimo ma vedete in questi sei casi è l'unico caso di un in cui funziona benissimo due chitosani stesso ceppo cambia vino questo e vedete che qui cambiando chitosano le cose un pochino cambiano il grigio chiaro sembra essere come dire avere un'efficacia migliore me lo porta a poche cellule però attenzione nella feccia se non la tolgo vedete le cellule tendono a riaumentare per cui in due settimane sono tornate al numero iniziale mentre nel vino no l'altro chitosano grigio oscuro ha una certa azione ma comunque anche qui come dire se si sta sulle mille cellule qui si sta tranquilli qui bisogna stare un po' guardinghi e più che altro qui sulle fecce le cellule aumentano vediamo qua in questo caso nei campioni non testati questo vino ci sta abbastanza bene in quanto nelle fecce è circa 10 alla settima cellule al millilitro nel vino sci nel vino sci di nuovo c'è una come dire e si dimostra essere un vino in cui chitosano funziona abbastanza bene specialmente di nuovo con il vino con quello grigio chiaro che in pratica scompare due linee sono qua sotto mentre con il grigio più oscuro vediamo che ha un buon effetto sul vino mentre sempre sulle fecce insomma la popolazione sembra non crescere ma rimane costante intorno a 10 alla quarta ecco che l'effetto chitosano vedete come in realtà è molto più complesso e di come a prescindere da come viene raccontato effettivamente l'interazione chitosano brettalomyces dipende da tantissimi fattori dal fattore dino che sembra poco non solo loro vanno a considerare concentrazione ma anche età delle cellule cioè sono cellule che stanno crescendo a cellule giovane oppure cellule che stanno lì e sono cellule più vecchie può cambiare anche quella la loro sensibilità e poi un'altra cosa è la variabilità tra i ceppi testati ecco che come dire non si può pensare che come per la solforosa se era già visto neppure per il chitosano il trattamento avrà di sicuro effetto cioè il mio vicino lo fa e non ha problemi lo faccio io non ho problemi non è detto non è detto che funzioni su tutti i miei vini nella stessa maniera purtroppo è così cioè la complessità della matrice è molto diciamo è della biologia è davvero importante ecco perché è davvero importante la conoscenza cioè sono necessarie delle indagini cioè delle analisi pianificate per valutare l'entità dei rischi cioè innanzitutto per capire come funziona la vostra cantina ogni cantina funzionerà in maniera diversa cioè bisogna conoscere bisogna conoscere come funziona i meccanismi biologici presenti nella cantina sarebbe importante conoscere come funziona la fermentazione alcolica la malolattica è assolutamente importante sapere come funziona la vostra cantina in cui tenete i vini ad affinare specialmente se questo affinamento è lungo mesi o anni quello se è lungo anni è davvero molto importante sapere cosa succede per evitare brutte sorprese certo ci sono i momenti critici code fermentative malattiche una violento l'incremento di temperatura come dicevano i francesi ma insomma già noi ci siamo arrivati con le temperature maggiori ecco che le popolazioni si possono risvegliare ma anche travasi e colmature possono essere importanti sia per l'ossigeno che si dà sia per eventuali contaminazioni che possiamo metterci che possiamo fare travasando ad esempio con tubazioni non troppo pulite o colmando con vini contaminati i fattori a rischio ovviamente sono i soliti ma attenzione anche la qualità delle uve può essere importante cioè se ho uve di scarsa qualità cioè non di scarsa qualità come caratteristiche chimiche ma microbiologiche cioè vi ricordo quando ho parlato delle fermentazioni ho parlato dei lieviti presenti sulle uve ecco sulle uve molto sane potrei avere pochi lieviti per grammo e pochi batteri per grammo di uva ma se porto in cantina uva ad esempio col marciume acido o uve botretizzate o comunque uve non perfettissime io posso avere 15 milioni di cellule per grammo d'uva con anche tanti batteri specialmente acetici in caso di marciume acido certo se mi porto dietro tutta questa ricchezza tutta questa biodiversità beh potrei anche portarmi in casa forse più brettalomices forse non è detto per cui la quella delle uve potrebbe anche questo essere un fattore importante per stabilire come dire la microflora della mia cantina ecco quello che potrebbe essere un'idea uno schema dice ho un problema cosa devo fare conoscerlo per cui un'analisi microbiologica in modo a capire e verificare l'entità delle popolazioni e l'entità dei fenoli volatili è un problema il problema è già come dire importante oppure sono riuscito a come dire a vedere l'inizio della produzione di fenoli volatili per cui ho una popolazione anche abbastanza alta ma l'ho prezzo all'inizio per cui ho per adesso pochi etilfenoli bene cosa devo fare quali sono le strategie per diminuire la densità cellulare perché io posso soltanto diminuire la densità cellulare per frenare la produzione del del prodotto che etilfenolo o ammina biogeno per i batteri lattici o semplicemente un incremento dell'acida volatile per i batteri lattici anch'essi posso usare dunque l'SO2 chitosano filtrazione nel caso del bretto la gestione dell'ossigeno è un fattore molto importante dovrei dargli meno ossigeno possibile al vino ma più che altro come vi ho fatto vedere specialmente nell'ultimo grafico l'analisi microbiologica dopo alcuni giorni dal trattamento per capire se davvero il mio vino è stabile non sterile ma stabile questo potrebbe essere un piano di controllo nel senso questo è certo tutti vorrebbero una fermentazione alcolica regolare sta anche un po' a noi far in modo che la fermentazione possa essere il più regolare possibile e come la gestiamo noi non sempre colpa del mosto dei lieviti se la fermentazione non va come noi vogliamo potrebbe anche essere tra virgolette colpa nostra cioè fare delle pratiche che per i miei lieviti e per il mio mosto non vanno bene di nuovo possono andare bene per il mio vicino possono essere andate bene per il mio nonno quando faceva il vino a lui ma con l'uva attuale e con i lieviti che trovo adesso che ho adesso nella mia cantina nella mia vigna forse non è più buono ciò che faccio per cui ecco il favorire il ricorso regolare ecco uno deve anche capire bene qualora questo fosse un problema come risolverlo la fermentazione malolattica anche quello sarebbe importante se si vuol far insomma che avvenga prima possibile anche un pochino in cuore la fermentazione alcolica questo ovviamente come vi avevo già detto la malolattica è certamente molto più molto meno controllabile rispetto alla fermentazione alcolica perché i batteri sono molto più imprevedibili e bizzardi rispetto ai lieviti e al nostro saccaronice cerevise di nuovo conservazione maturazione e come facevano vedere quell'articolo diciamo dei francesi è bene conoscere il nostro vino e capire se è un tendenzialmente un vino sensibile alle alterazioni microbiche sia il brett ma siano anche i batteri lattici per qualche motivo chimico chimico fisico un pH tendenzialmente più alto oppure delle condizioni ad esempio un vino che è molto ricco in nutrienti naturalmente molto ricco in nutrienti per cui conoscere i punti deboli del mio vino potrei anche avere un vino che ha pochi punti deboli perché è come dire strutturalmente resistente all'attacco del brett per cui non avrò quasi mai problemi di brett o dai batteri lattici per cui potrei come dire non avere mai grossi problemi non è detto che un vino debba avere necessariamente problemi ci sono anche quei vini che non facendo quasi nulla riescono a mantenere un profilo organolettico e chimico fisico sempre perfetto però attenzione anche qui non è non è detto per cui alla fine di tutto come dico sempre e come sempre detto occorre conoscere il numero delle delle popolazioni le specie dei lieviti presenti e dei batteri presenti e lo stato fisiologico questo ci serve per è fondamentale per valutare se il vino è a rischio oppure no se il vino non è a rischio come ho detto il vino avrà certamente lieviti il vino avrà certamente batteri è importante capire come dire cosa faranno cosa fanno questi questi batteri e il loro numero perché se un numero è abbastanza basso posso stare tranquillo anzi loro sono una mia ricchezza sono coloro che vanno a contraddistinguere a contrassegnare ancora di più il mio vino eh per cui non sono nemici ma certamente devo capire devo conoscere bene il loro numero e la loro come dire e le specie presenti perché come avrete come io vi ho sempre detto ma lo ripeto sempre e facendo questo esempio no queste questa lezione sul brett vedendo come la popolazione brettanomice come questa specie nasconda al suo interno tanti ceppi molto diversi l'uno dall'altro per cui chiamare brettanomice alla fin fine non vuol dire quasi nulla ecco se io non conosco il mio vino non analizzo il mio vino beh non posso essere sicuro che le pratiche che io faccio anche le pratiche che ho sempre fatto siano sempre comunque eh risolutive ottenga sempre e necessariamente sempre i soliti risultati perché se faccio sempre le solite cose come era mia consuetudine mi aspetterei di avere sempre i soliti risultati ma potrei non avere sempre il solito vino tutte le annate oppure potrei non avere tutte le annate sempre i soliti cipi per cui la conoscenza fa la differenza di sicuro l'ignoranza l'ha fatta ecco questo ve lo posso dire per mia esperienza grazie a tutti per l'attenzione e se volete e quando volete cioè voi potete scrivere al mio indirizzo email per le domande per cosa si sta chiaramente ci possiamo sentire se volete fare delle analisi insomma controllare i vostri vini diciamo sono a siamo a disposizione per diciamo cercare di come dire risolvere anche dei problemi se guardate anche sul sito almeno lì vedete un po' meglio chi siamo e cosa facciamo io ho finito la mia presentazione per cui se ci sono domande conclusive grazie altrimenti andiamo a cena grazie buona cena a tutti bene ci vediamo alla prossima d'accordo allora niente buon divertimento e buona cena a tutti grazie 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 mille buona serata buona sera anche a voi arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti